Purtroppo la notizia è giunta, noi da una parte ce l'aspettavamo perché comunque ci sono le elezioni in Umbria, quindi noi consideriamo anche questa uscita un proprio tempismo perfetto per fare un assist politico alla Tesei. Ricordiamo che a metà novembre ci sono le elezioni in Umbria, quindi questa è una carta che la Lega giocherà per riconfermare Tesei, a danno purtroppo del territorio aretino, che ricordiamo è il secondo compartimento industriale della Toscana. Non ci va leggero, Matteo Galli, presidente del comitato Sava, stazione alta velocità, rezzo nel commentare l'annuncio del ministro Matteo Salvini di poche ore fa. La localizzazione di Medio Etruria, la stazione sulla tratta dell'alta velocità che attraversa Toscana e Umbria, si farà a Creti. Una scelta che sarebbe stata determinata dal miglior rapporto costi-benefici, ma non è dello stesso parere il comitato. Per l'occasione noi riapriremo la petizione su change.org perché questa storia non ci va giù, quindi anzi invito gli aretini a continuare a firmare per fermare questo folle progetto della Lega Umbra e anche nazionale. Il comitato è non solo, si sono espressi tanti amministratori pubblici, uno su tutti, il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, sostiene invece da tempo che la localizzazione più idonea sarebbe Rigutino, frazione del comune di Arezzo, proprio per ragioni tecniche. Essenzialmente ci aspettavamo come ci aspettiamo responsabilità, che ad oggi sembra l'eterna sconosciuta. Il centrodestra, sicuramente come il comitato, ma anche tanti cittadini auspicano, è chiamato ad una riflessione selvaggiamente sincera e da lì trarrà ogni debita conclusione.